A completamento della rivisitazione delle deleghe iniziata lo scorso 5 novembre, il sindaco Adamo Coppola ha conferito nella giornata di ieri al consigliere Franco Di Biasi in quota PD la delega ai lavori pubblici. Come annunciato nel novembre scorso, spiega il sindaco Adamo Coppola, tutti coloro che avrebbero dato la disponibilità a spendere parte del loro tempo per il bene della comunità sarebbe stato ben accettato. Con la delega al consigliere Franco Di Biasi andiamo ad implementare la squadra di governo cittadino operativa tra assessori e consiglieri comunali. A lui vanno gli auguri di un proficuo lavoro. Queste le parole di Di Biasi. Ringrazio il sindaco Adamo Coppola per la fiducia conferitami e accolgo questo nuovo incarico, la delega ai lavori pubblici, con grande entusiasmo e tanta voglia di raggiungere risultati sempre più positivi, lavorando sodo, con costanza e trasparenza. Il desiderio è quello di collaborare con il resto degli amministratori, restando fedele al principio dell'unione. Solo insieme possiamo raggiungere scopi e obiettivi migliori. Naturalmente, al di là del nuovo incarico e dei diversi impegni quotidiani, resto a disposizione totale della gente. Ascoltarvi e darvi voce rimane per me il miglior modo per porgervi nel mio piccolo e il mio sostegno. Ragione per la quale, conclude, a breve stabilirò degli orari e una sede dove sarà possibile incontrarci per confrontarci.